Una magia delicata e surreale per raccontare con una lucidità sorprendente la vita di una bambina cieca. Dopo il successo al volume Blind di Lorenzo Mattotti, CBM Italia Onlus, per bocca del suo direttore Massimo Maggio, presenta un nuovo libro in collaborazione con l'editore Logos di Modena. Ha avuto talmente tanto successo che abbiamo accelerato, abbiamo accelerato nei tempi della progettazione, abbiamo fatto un nuovo libro, un nuovo libro che si chiama Lucia, che è fatto da un grande illustratore conosciuto a livello internazionale, uno spagnolo, si chiama Rogel Olmos e ha una storia un po' diversa. Siamo passati forse da un'arte più astratta a un'arte più concreta. La storia di una bambina cieca che affronta la sua giornata. L'immaginario di Olmos è ricchissimo, quasi stabore a Dante, eppure mantiene una sua tenerezza e, grazie alla cecità, apre anche i nostri occhi. L'obiettivo di raccontare la disabilità, ma forse raccontare proprio questa parola che io chiamo magica, è la parola inclusione. Questa bambina che rappresenta un po' tutto quello che dovremmo essere anche noi, perché questa bambina che non ci vede abbatte tutte le sue barriere, abbatte tutte quelle barriere che noi abbiamo, quelle barriere che rappresentano anche un'esclusione all'inclusione. Lei invece è una bambina inclusiva. E grazie alla giornata di Lucia, anche noi possiamo scoprire modi di pensare diversi e arrivare a una conclusione, forse in attesa, ma per CBM è molto chiara. La disabilità è un'abilità, ma la disabilità soprattutto ci fa comprendere come ognuno di noi ha la propria disabilità.